Il salmone con finocchi e avocado alla neto. È una cena ideale per lo sportivo che ha bisogno di energie e che vuole sentirsi sazio anche nelle ore successive al pasto. Vediamo quali sono gli ingredienti della ricetta. Filetto di salmone reumare all'olio d'oliva che apporta proteine ad alto valore biologico ed è ricco di acidi grassi omega 3 a lunga catena, utili per la salute delle nostre funzioni cardiache e che devono essere inseriti con l'alimentazione poiché non vengono sintetizzati dall'organismo. Mezzo avocado utile ad aumentare il senso di stacietà del pasto ma anche per mitigare l'eventuale risposta glicenica in pasti ricchi di carboidrati. Un finocchio, carote grattugiate, olio extravergine d'oliva, sale e aneto. La ricetta completa è in descrizione e ricordate il primo esercizio è l'alimentazione. Su riomare.it potete trovare altre preparazioni e consigli nutrizionali per gli sportivi. grazie.